Matteo Brunori, classe 1994, 25 anni ancora da compiere, 17 golle lo scorso anno in C tra campionato e playoff ad Arezzo nel 4-3-1-2 di Dalcanto. Due anni fa 23 in D nel Villa Biagio, carriera iniziata da esterno nel Foligno in C1, poi settore giovanile Regina, ancora in C con Foligno, Reggiana, Propatria. Zero rating, 40 presenze tra i professionisti. L'Italo-Brasiliano si rimette in discussione, scende in eccellenza e cambia ruolo col Petrignano di Assisi, 40 golle in due stagioni. Poi, come ricordato, Villa Biagio e appunto Arezzo, prima o seconda punta, abile ad attaccare la profondità, discreta fisicità ma svelto e rapido in area di rigore. Certo, l'ideale sarebbe stato Ceravolo, ingaggio però fuori budget, circa 600 mila euro netti a stagione. Matteo Brunori è vero, è una scommessa, ma nel calcio mai dire mai.